Tanti gli argomenti in questo video, argomenti che riguardano il Milan del futuro, un accenno al Milan del passato, volevo parlare di formazioni, volevo parlare delle domande, dei problemi che mi sto ponendo oggi, problemi legati un po' alla sconfitta contro l'Atalanta, sconfitta che non mi ha preoccupato, che non mi ha spaventato, ma poi vi dirò che cosa io voglia vedere nel derby di domani sera alle 20.45. Veniamo subito alla formazione, le informazioni ho atteso qualche minuto in più nel mandare questo video perché volevo dare più informazioni più attendibili possibili riguardo agli 11 che affronteranno l'Inter e allora non ci sono dubbi per quello che riguarda il portiere sarà Serratura Tatarusano. Per quello che riguarda la difesa giusto riposo per lo splendido Calabria di questo periodo e giocherà Dalot. A sinistra Teo Hernandez che deve mettere benzina nelle gambe dopo la settimana di riposo forzato. Torna Romagnoli e rimane Chier. Su Chier e Romagnoli Pioli non transige, dovrebbero essere loro a cercare di fermare gli attaccanti dell'Inter. Vedremo se Lukaku e Lautaro o Sanci, lo vedremo, ma la coppia centrale è fondamentale. La prima sorpresa a centrocampo dove il Milan con Chessy, l'inossidabile Chessy, dovrebbe schierare Meite con Tonali turno di riposo. Quindi vedremo Meite nel suo vero ruolo di centrocampista a due. Una bella prova da superare contro un centrocampo certo organizzato che dovrebbe forse avere il ritorno di Sensi, quindi un centrocampo rafforzato, quello dell'Inter da un giocatore che a me piace veramente tanto, giocatore che tormentato dagli infortuni quando gioca fa la differenza. Quindi un bel duello che si mete e il centrocampo dell'Inter. Là davanti sono contento che Pioli riconfermi i tre. Selemeker che ritorna dunque con Diaz centrale. A sinistra, come logico, perché ho letto Mandjukic, Rebic, come logico. Leao è stato il giocatore contro D'Ambrosio, che nel derby non ci sarà per un infortunio e ci dispiace. Contro D'Ambrosio nel derby di andata ha giocato una parita splendida con il passo diverso, una questione di passo, e la difesa dell'Inter aveva questa spina lì. Quindi confermato Leao sta meglio, è il giocatore che sta meglio rispetto a Rebic e Mandjukic, ci sarà tempo di mettere benzina a questi due giocatori. E là davanti Ibrahimovic. Per quello che riguarda Ibrahimovic ho letto anche che avrebbe chiesto lui di giocare con Mandjukic. Ecco, attenzione, il Milan, l'abbiamo detto, è nato in una certa maniera, il Milan di Pioli forte che è rimasto imbattuto a lungo e quindi non ci sono sconvolgimenti. Ibra, secondo me, ha parlato così, ma si riferiva a un discorso generale, non avendo Celanoglu, non avendo Diaz, aveva perso un po' i punti di riferimento. Questo è il concetto di Zlatan Ibrahimovic. Ricordiamo l'arbitro, il signor Valeri, per questo derby. Ecco, è fondamentale, la partita contro l'Inter per me è fondamentale per capire una cosa. È certo, è fondamentale vincere, battere l'Inter, arrivare al semifinale di Coppa Italia, tutto giusto, tutto bene, però quello che io voglio vedere domani sera, voglio rivedere, non è che l'ho visto l'ultima volta vent'anni fa, parliamo di Milan Cagliari, cioè una settimana fa, esatto, voglio rivedere quel Milan lì. Il Milan che ho visto pur nella sconfitta contro la Juventus, cioè il Milan che afferra la partita, che comanda il gioco, che gioca alla sua maniera, con questi fraseggi a terra, con questo pressing asfissiante là davanti, con questo modo di giocare ben identificato. Io mi auguro, ecco, che gli arrivi importanti, essenziali per poter puntare alle tre manifestazioni, e parliamo di Tomori, e parliamo di Meite, e parliamo soprattutto di Mandzukic, non portino degli sconvolgimenti a livello tattico, sconvolgimenti a livello di filosofia e strategia di gioco. Il Milan ha chiaro, chi giocherà sempre. Il Milan deve essere Donnarumma, deve essere Dalotto Calabria, deve essere Dalotto Teo Hernández, o eventualmente Calulu a destra, però in terza posizione. In centroarea deve essere Chiera, Romagnoli, eventualmente Gabbia, eventualmente Tomori, eventualmente Musacchio. Stop. A centrocampo ne abbiamo quattro, con Meite leggermente sotto gli altri tre, perché è appena arrivato, e parliamo di Benasser, parliamo di Tonali e parliamo di Chessy. A destra Castiglieco o Lemeker, centrale Cialanoglu o Diaz, a sinistra Rebic o Leao o Auge o Mandzukic, davanti o Mandzukic o Ibrahimovic. Stop. Questo deve essere lo schema e i giocatori del Milan. Quindi niente due punte alte, parlo all'inizio della partita, poi l'evoluzione del match può ovviamente variare, possono variare, il Milan non è un Moloch che non cambia nulla, possono esserci variazioni, ma la partenza deve essere quella. Il gioco del Milan, quasi perfetto, identificabile, molto identificabile, è stato il segreto di questo Milan, non devono esserci variazioni. A destra giocatori, a sinistra scelga l'allenatore, non pretendo certamente io di dare dei suggerimenti. Davanti, per fortuna, abbiamo oltre Ibra anche Mandzukic, che ha le stesse caratteristiche e dunque questo è quello che non mi preoccupa la sconfitta o non mi spaventa la sconfitta. Voglio essere certo che si ritorni a quel Milan lì, con la possibilità di ulteriori variazioni, figlie anche di un ritorno alla miglior forma, di giocatori o penalizzati dai infortuni o penalizzati dai tamponi. Quindi, io ricordo nel passato, quando magari si è cercato di cambiare qualcosa, una su tutti nel 65, quando il Milan perse Altafini, che non era d'accordo sul contratto con il Milan, andò in testa meravigliosamente con Ciappina-Ferrario i suoi gol, con una grande squadra, poi è ritornato Altafini, ci sono stati dei rimestamenti e il Milan poi perse il campionato. No, il Milan ha la sua linea, voglio che continui la parita con l'Inter, io voglio vedere quel Milan lì. Poi possono esserci pali, arbitri, parate del portiere, prodezze dell'avversario, prodezze del Milan, sono tutte le variabili di una partita, però voglio la certezza di rivedere quel Milan lì, quello di Cagliari, non quello di un anno fa, quello di una settimana fa. Dopo la preoccupazione, io cancellerò subito la sconfitta con l'Atalanta, che potremmo considerare un episodio, ma sarà importante contro l'Inter rivedere il filone di gioco, rivedere l'attaccante là davanti, il giocatore veloce Rebic Leao, secondo me meglio di Mangiukic in questo momento, fra un mese mediamo, a destra torna Selemeker e Tonali è che sì, a centrocampo in attesa di Benassermen, speriamo contro il Bologna. Voglio questo filone, niente confusione, niente cambiamenti, il Milan è stato splendido, splendido in questi otto mesi, con il suo filone di gioco, voglio che continui così, lo sottolineo ancora una volta. Questa è la preoccupazione, quando poi vedrò il Milan ben schierato con questa filosofia, ancora, e non ho motivo e dubbi che Pioli ritorni subito a quel Milan che conosce a memoria, il Milan è riuscito, pur con i giocatori giovani, pur con Auge appena arrivato, pur con Rebic, con Leao, senza Ibra, è riuscito grazie al suo gioco ad arrivare dov'è. Il gioco è fondamentale, il Milan ha il gioco migliore, l'ha mostrato, il gioco migliore in questo girone d'andata. Non cambiamo dunque, giocatori e gioco ben delineati, schemi chiari, moduli chiari. La partita contro l'Inter per me è importante soprattutto per quello, perché se rivedo il mio Milan sono tranquillo per il futuro, perché con gli acquisti è ancora più forte del passato. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.